Senti, volevo chiederti una cosa, perché Venom è sempre in bagno? Da quando è che hai iniziato a fare così? Se non ricordo male è stato quando... Ecco... Chiudiamo, lo stai facendo? Che la stai facendo? Basta! L'ho appena comprato quelle cose! Mi senti? Ehi! Mi vuoi ascoltare? Mi vuoi ascoltare? Mi vuoi ascoltare? Ma che? Ancora? Occhi, polmoni, pancreas... Così tanti stuntini a così poco tempo! Ma prima... Devo andare in bagno! Mi serve! Ma dov'è la carta igienica? Ehi! Mi servono 5 rotoli di carta igienica! Sì, adesso! Ho bisogno! Quindi ha problemi di stomaco? Interessante! Comunque ho vinto! Cosa? Ecco perché nessuno vuole giocare con te! Cosa? Noi, non tiadosso! Sono più felice del voliente! Noi, perché sono molto felice! Poi che si tracciai risponto sui! Mentre la signora e li